buongiorno bambini allora siamo a maggio il 5 maggio e come sapete maggio il mese dedicata alla madonnina per questo io ho preparato questo disegnino se volete vedete la coroncina del rosario e da colorare oppure la fate voi come preferite un'altra e l'importante che diciamo ogni mattina un ave maria dedicata alla madonnina come facevamo a scuola così ci aiuta in questo momento di lontananza ma maggio non è solo il mese della madonna ma anche il mese della mamma perché domenica come sapete è la festa della mamma ecco qua io ho preparato la la poesia e intanto voglio farvi fare il biglietto profumato su cui scrivere la poesia come lo facciamo prendiamo dei fiori freschi io ho preso questo geranio che sa di citronella è molto 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 profumato scriviamo la poesia su un foglio me la fate scrivere da mamma poi non dovete fare altro che coprite i fiori con un foglio di carta scottex e fare pressione io ho usato il vaticane però potete sarà anche un sasso o qualcos'altro di duro io adesso ho fatto velocemente infatti non non è venuto però aspettate mi raccomando non vi schiacciate le dita ok adesso dovrebbe essere venuto ecco qua si vede si vede l'impronta dei fiori voi fatelo sempre molto molto oppure potete lasciarli attaccati va bene comunque lo fate asciugare e poi lo facciamo con 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 la matita un bacio ciao ciao